pesce fresco bagnato dal profumo del mare, colori e consistenze, forme e sapori unici bisogna saper trovare, pescare e infine scegliere con cura per arrivare a ciò che ogni buon gustaglio cerca pesce buono da cucinare seguendo ricette prelibate e genuine oppure da servire in tavola così com'è, crudo e freschissimo questa è la storia di un viaggio, alla scoperta di luoghi, sapori, tradizioni, è la storia di persone che hanno scelto di fare del pesce e del mondo che adesso ruota attorno la propria professione, è il viaggio di Luca, la sua esperienza e la passione per i prodotti del mare sono in mostra giorno dopo giorno sui banconi della piazzetta del pesce il mare è uno splendido paesaggio, siamo a Tre Fontane che è una frazione di Campobello di Mazzara in provincia di Trapani innanzitutto, come mai proprio qui? ma perché è qui che vogliamo mostrare come acquistiamo e come scegliamo il nostro prodotto, il nostro pesce fresco è qui che è una delle migliori zone d'Italia dove si pesca il miglior pesce del Mediterraneo il più saporito ed è riconosciuto da tutti gli chef del mondo, è il più richiesto un pesce d'eccellenza, Luca però non può occuparsi personalmente di sceglierlo appena pescato la piazzetta del pesce si trova a Brusaporto in provincia di Bergamo occorrono quindi occhi fidati e mani esperte che a distanza possano garantire l'ottima qualità del prodotto Andrea è senza dubbio un collaboratore speciale il tuo quindi Andrea è un compito impegnativo, tu hai contatti con pescatori, come scegli il pesce? attraverso uomini che sono all'interno delle varie coste siciliane perché io arrivo fino alla costa siracusana, catanese quindi vado su Milazzo, cerco però di avere giustamente una certa cooperazione e dopo anni di sacrificio e dopo anni di dettagliata ricerca di uomini abbiamo trovato questa intesa, questo feeling che ci consente di selezionare il pesce in maniera dettagliata e precisa noi vediamo il mare, possiamo anche immaginarci quindi il compito di questi pescatori che tutte le notti vanno a pescare sì, tempo permettendo perché è una vita difficile la loro, una vita travagliata, una vita veramente sacrificata già, la vita del pescatore sveglia all'alba, la mattinata passata in mare a gettare le reti, il rientro al porto non si può capire fino in fondo questa scelta di vita finché non la si prova sulla propria pelle il richiamo del mare, i ritmi scanditi dalle onde e dai venti, il sale sui vestiti, il sole e la pioggia siamo a bordo della motobarca Caterina, allora innanzitutto abbiamo avuto l'opportunità di scoprire come è la vostra vita quotidiana è un bel lavoro che come mai innanzitutto ho deciso di farlo ed è da piccolo che faccio questo mestiere quindi farei altre cose però è il richiamo del mare ciò da sangue è questo, è il pescatore vi abbiamo visto le prese con la rete, non è un mestiere facile eh insomma, sembra facile però ci deve avere un pochettino di pratica se no ti inviglio con la rete e finisci a mare la cosa più bella secondo te di tutto questo mestiere? cioè magari buttare le reti a mare sapendo che peschi quel pesce magari trovi una sorpresa un altro pesce più grande magari c'è sempre sorpresa al mare con le reti più o meno la percentuale si sa il 40, 50, 60% dovresti prendere quello che ci vai a buttare in rete però a volte capita che si prendano altre cose più misteriose diciamo adesso è finita la giornata, si va al porto? la mattina si va a tirare le reti che si sono buttate al mare a che ora ci si alza domani mattina? per andare lì si ci impiega un'oretta alle 5 e mezzo, alle 6, meno un quarto si esce nel bene e nel male quando si tirano a bordo le reti ciò che si è pescato è sempre una sorpresa a volte tra le maglie si scoprono pesci che nemmeno si sperava di trovare altre volte va peggio e ci si deve accontentare di ributtare a mare le reti sperando in un risultato migliore la vita di Tonino non è molto diversa da quella dei pescatori che viaggiano in mare a bordo dei pescherecci più grandi dal pesce spada agli scampi dal famoso gambero rosso al mitico tonno di Sicilia in ogni caso serve passione, professionalità, attenzione per il prodotto a proposito, come si sceglie Luca e i suoi tonni? Andrea siamo arrivati all'Eurofish come mai ci hai portati proprio qui? perché è un'azienda leader nel settore quindi la scelta è molto semplice l'Eurofish è sinonimo di qualità quindi per te è una garanzia e come mai questa garanzia? garanzia significa prodotto di una qualità fornito da barche che da oltre 30 anni pescano tonno di palangaro e barche certificate a livello nazionale e comunitario in quanto hanno la possibilità di prendere del tonno con quota perché l'Italia attribuisce delle quote di pesca ad ogni imbarcazione quindi questo significa avere tonno certificato da parte delle barche ecco e di tutti i tonni che arrivano come vai tu a scegliere? qual è quello giusto? ma i tonni diciamo quasi tutti sono di buona qualità poi dipende un po' dal cliente andare a individuare il colore rosso, il grasso praticamente per vedere un po' il colore interno si usa un attrezzo chiamato sashibo che riesce a prendere una campionatura interna da lì si vede il colore del pesce all'interno e anche la percentuale di grasso che può avere e poi effettuiamo anche un taglio nella coda dove preleviamo una fettina proprio sottilissima e lì si riesce a vedere sempre il colore però l'altro lato del pesce più il grasso più grasso c'è presente nella gota significa che più grasso c'è presente nella parte centrale del pesce e da lì poi si sceglie il pesce poi l'impatto visivo diciamo fa sempre bene perché l'occhio deve essere lucido il colore sempre è blu quindi il pesce più è fresco diciamo meglio è saper scegliere il prodotto migliore è fondamentale ecco perché Luca ha bisogno di collaboratori che ogni giorno al porto controllino gli arrivi e comunichino immediatamente quanto è stato pescato per avere sul bancone il pesce freschissimo è importante che la filiera funzioni velocemente e alla perfezione il processo viene così Andrea già telefona sa già quando il pesce è pescato dalla barca comincia quindi già ad allertare i suoi clienti tra cui appunto la piazzetta del pesce in modo che comincia già vendere il prodotto quando il prodotto sbarca a terra e già tutto venduto viene immediatamente incassettato giusto Andrea e spedito all'aeroporto di Palermo da qui poi arriva nei vari aeroporti milanesi che può essere lì nato e malpensa a secondo della disponibilità dello spazio che c'è sul volo stesso una volta giunto a Milano il pesce tramite i nostri corrieri viene smistato per i nostri punti vendita per i nostri clienti questo viaggio può essere tutto a vostra disposizione vi collegate al sito www.lapiazzettadelpesce.it prenotate via email il pesce che desiderate avere sulle vostre tavole e Luca penserà a tutto il resto grazie a Tonino, Andrea e a tanti altri professionisti la freschezza e la qualità sono garantite ogni giorno la piazzetta del pesce consente di prenotare direttamente i prodotti online via internet innanzitutto come mai quest'idea? ma quest'idea l'ho avuta perché ritengo che per mangiare un pesce veramente fresco bisogna pescarlo direttamente in mare e poi mangiarselo quindi nel più breve tempo possibile il mercato in questo momento funziona che ci sono dei pesci acquistati sul bancone della pescheria quando passa un cliente se lo compra ma questi pesci possono passare un giorno, possono passare due o tre in questa maniera diamo la possibilità di prenotare direttamente il pesce che vuoi su internet con questa prenotazione noi poi andiamo ad acquistarlo direttamente in mare quindi noi abbiamo i nostri pescatori che lavorano con noi quando ritorna la battuta di pesca noi chiamiamo, sentiamo che pesce hanno se abbiamo il pesce desiderato lo acquistiamo nel giro di 12 ore l'abbiamo a Bergamo quindi diciamo il modo più veloce in assoluto per poter avere il pesce fresco direttamente in tavola ed è anche a rigore di logica se uno ci pensa così tra l'altro è molto semplice per la fin fine perché basta andare su internet si clicca giusto sul prodotto scelto e lo si prenota esatto, in tre semplici passi si può prenotare il pesce e venire poi a ritirarlo presso uno dei nostri distributori e naturalmente diamo perlomeno il tempo di pescarlo quindi uno o due giorni prima va prenotato però appunto poi tutto è rapidissimo e tra l'altro tu hai voluto proprio farci vedere quanto è rapido questo passaggio esatto, infatti siamo qui a Mazzara del Vallo uno dei maggiori porti italiani e qui andremo a vedere proprio tutta la filiera di come avviene questo percorso quindi dall'arrivo della prenotazione via mail al pescatore che va poi a pescarlo e rientra in barca è una cosa molto esemplificativa ma è quello che veramente si fa poi anche in grande scala grazie a tutti